A questo punto andiamo dal nostro sponsor, Giuseppe Zannone, di capelli testata, che ci presenta, stasera ci ha portato un testimonia speciale che è Luca Sepe. Ma secondo me ne ha portati tanti, ma secondo me ne ha portati molto di più di Luca Sepe. Vogliamo favorire l'inquadratura su queste ragazze che io ho tanti capelli così, non li ho mai visti, non è che c'è il tuo zampino pure qua? Sto scherzando ovviamente, i problemi sono di solito più maschili purtroppo. Più maschili, più maschili. Prima di dare la parola a Luca volevo ricordare il mio sito che è www.giuseppezzanone.com con la mia pagina Facebook per invitare a tutti di visitarlo in modo tale che possano sapere bene di cosa ci occupiamo, perché non solo ci occupiamo di servizi estetici e chirurgici ma anche di trattamenti rivitalizzanti per i capelli molto sottili e per quelli che non riescono ad avere abbastanza corposità. Stasera sono in compagnia con Luca Sepe che non saprei come definirlo perché è tutto, è un cantante, è tutto, un uomo di spettacolo completo a 360 gradi, per cui lascerei la parola a lui. Grazie, grazie, è un piacere tornare in questi studi che sono poi gli studi, grazie, grazie. Quelle che vedete sono le immagini del mio scalpo come era un tempo e credo che parli chiaro, nel senso che io sono felice perché questi studi mi hanno permesso di conoscere Giuseppe Zannone che è un grande professionista e poi in seguito è diventato anche un grande amico e questo è ancora più importante dei capelli. Ciò non toglie che dovendo parlare dei capelli io credo che i risultati, guardando il prima e dopo del quale mi sono fatto volentieri testimonialo ormai da, ripeto, anni 4, credo che i miei capelli, la mia testa parli da sola. Tant'è vero che sono venuto qui proprio a testa alta, come dice il nostro slogan, e dico nostro perché ormai è un connubio quello tra me e Giuseppe Zannone. Quando ci incontrano per strada a lui chiedono di me, a me ovviamente siccome la calvizie è un problema piuttosto diffuso direi, mi chiedono dei consigli su quella che è la procedura. E io dico semplicemente di chiamare, l'invito a chiamare Giuseppe perché, ripeto, questi capelli che vedete credo siano loro a parlare e non la mia voce. Ripeto, per chi poi fa il mio lavoro credo che sia assolutamente importante mantenere un'immagine quanto più possibile vicina al piacersi. E siccome ho cominciato a perdere i capelli proprio qualche anno fa quando ho conosciuto Giuseppe, sono stato furbo ad intervenire in tempo. Ciò non toglie che ero già ad un livello, come si vede, avanzato. Ma Giuseppe questi problemi non se li fa, nel senso che seate all'inizio della vostra perdita, ci sono dei trattamenti rinforzanti e poi ci sono dei trattamenti più estremi. Dico solo, anzi se me lo concedete mi giro pure così vi faccio vedere anche il retro che li vedete. Guardate quanto è bello, io parlo, sono felice di dire che io sono il testimonial di Giuseppe Zannoni, capelli a testa alta perché io penso di parlare da solo e ne sono felice e consiglio veramente a chi ama piacersi perché è innegabile che i capelli, come si dice a Napoli, tutte le avevano con canna a cuo, per cui praticamente se volete ritornare a ringiovanire, guardate a Di Gennaro, pensatelo con un bel capello in testa che cosa potrebbe diventare. Sarebbe una cosa. Che cosa, che cosa? Tu li farai grigi ma noi no. No, 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 stai sbagliando, invece quello è bello, garantisco non li fate neanche grigi, hai toppato, vedi, 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 è vero, questo dico, quindi sono felice, grazie. E poi voglio un attimo. Insomma da che non ce l'avevi è invece adottato il look di mare chiaro. Mia splendida Anna, voglio dirti tra le altre cose, sì e volevo aggiungere, visto che tu lo hai detto in precedenza e forse diciamo la timidezza di Giuseppe non gliel'ha concesso, che non è vero che è un problema soltanto maschile, nel senso ovviamente è più diffusa la calvizia maschile. No, però consideriamo, torno per un attimo serio, che ci sono tante donne, ahimè, che hanno avuto problemi di perdita di capelli anche dovuti magari a malattia, insomma ad altre situazioni poco piacevoli e devo dire che proprio perché frequento lo studio di Giuseppe in maniera periodica che incontro delle donne felicissime di ritrovare la propria immagine grazie ai capelli che Giuseppe Zanone fa ritrovare loro, quindi volevo dirlo e ci tenevo tanto. Ok, grazie e buonasera.